Anche oggi, 3 ottobre, siamo a Belletri, qui c'è il tribunale dove iniziano le udienze contro i fratelli bianchi che dopo aver ucciso Willy Duarte, prima e durante, si sono divertiti a torturare anche gli animali conigli, gatti, addirittura pecore e il padre fece anche un video. Grazie a quel video li abbiamo denunciati, ci stiamo costituendo parte civile oggi si saprà se il tribunale accetta, il giudice, la costituzione di parte civile della LAPA animalisti italiani è un pelleca del cane e così speriamo che ai 25 anni di condanna per l'uccisione di Willy Duarte si aggiunga anche un anno, un anno e mezzo di condanna per il maltrattamento di animali 25 anni in Italia vuol dire che fra 10 anni usciranno, ci aggiungiamo una piccola pena in più il pagamento di un po' di spese e forse questi assassini si faranno magari 12-13 anni in galera anche se noi sarebbe piaciuto l'ergasso alla vita ma la pena è stata ridotta animali liberi sempre animali liberi animali liberi